Ho conosciuto Dreambooks Pro alcuni anni fa e posso dire che è stato immediatamente amore a prima vista per la bellezza degli album che proponevano e anche per l'attenzione e assistenza eccezionale che mi veniva data come cliente. Trovo importante poter proporre ai miei clienti prodotti in cui io credo in prima persona. Non potrei proporre albumi e prodotti legati al mio lavoro di fotografo se non fossi pienamente convinto e se non fossi il primo ad amarli. Amo ad esempio la qualità di stampa, le varie carte a disposizione, la scelta dei materiali, i modi con cui posso personalizzare infinitamente le copertine. E' fantastico avere gli strumenti per rendere davvero unico ogni album che io vado a consegnare ai miei clienti. Come fotografo non c'è niente di più bello che vedere le proprie fotografie stampate e valorizzate su un album di altissima qualità. Un album con un grandissimo valore simbolico che acquisterà nel tempo e anche di generazione e generazione.